Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego come trovare e uccidere quel drago a due teste che ha un nome impronunciabile quindi il posto dove andare è qui al Tempio del Drago farvi veramente un bel viaggio fino ad arrivare laggiù tanto per arrivare qua è molto semplice, tanto una volta ucciso il gigante di fuoco parlate con la signorina Bion da là al punto di grazia e avete fatto, vi porterà in questo posto bene, una volta ucciso scendete qua sotto ecco questo è il percorso da fare, quindi sempre dritto, qui c'è il drago, scendere, 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 sempre qui, scendere, scendere una volta sceso dirigetevi qui a dove vi ho fatto vedere, al tetto del Tempio del Drago scendete qua sotto ho provato anche a farlo da solo assieme alla mia copia e non ci sono riuscito, quindi ho evocato un tizio qualunque e niente quindi ragazzi dirigetevi qui, sdraiatevi a terra, quindi stenditi e niente, ritorniamo indietro nel tempo e ci porterà là a sconfiggere il drago eccolo là, guarda quanto è bello creperà subito ve lo dico, creperà subito poi ho evocato questo tizio, così era l'unico disponibile, l'ho evocato e quindi adesso vi dico anche come ucciderlo, perché è molto semplice ragazzi quindi state sempre all'allarca, no veramente, state sempre all'allarca perché questo con i laser che escono dalla sua bocca, minchia, ti sciottano per fortuna ho 2000 di vita, vitalità più di 60, ammazza, questo con i tuoi colpi ti fa fuori ho usato le mosche per fare più danni, guardate là assieme all'altro ragazzo, altro giocatore abbiamo fatto già un sacco di danno nei primi due minuti ed è arrivato quasi a metà questa è anche una mossa che veramente rompe i coglioni, la fiamma e già, guarda là, guarda quanta vita mi ha fatto scendere immagina se un ragazzo, un giocatore di livello 20 veniva a fare sto trago con un solo colpo, ti sciottavo poi alla fine l'ho ucciso con la katana ho scritto un altro nome sulla mia katana, quindi un altro boss che ho sconfitto infatti l'ho ucciso così, solo con le mosche e la katana, ho fatto subito subito poi il giocatore là è morto, si è fatto uccidere i fulmi, dovete sempre stare attenti ai fulmi ecco, quando spara i laser, mi raccomando, non rotolate, scappate scappate, non serve a niente rotolare, quello vi prende lo stesso ma quant' odio quando fa quella mossa vada vada, vedi, ti prende lo stesso anche se è roto qui qua quindi cerca sempre di stare lontano ah, questa parte mi è piaciuta tantissimo l'ho schifato un sacco di volte un po' mi ha preso qua e mi ha tolto già un botto di vita eccolo che arriva, mannaggia vada, vado qua, sono stato fortunato opposto, ce l'ho fatta qua, apposto perché una volta ucciso vi darà 420.000 ronde, beh, questo è il secondo viaggio e niente, vi darà anche la rimembranza da portare alla tavola rotonda e in cambio vi darà una bella spada, veramente una bella spada mostruosa, fa veramente un sacco di danno quella cosa quindi grazie a tutti per questa visione lascia like se il video ti è stato utilissimo iscriviti al canale perché farò altri video su Elden Ring mi raccomando sfoglia nel mio canale perché veramente ci sono un sacco di video di Elden Ring su molte guide e niente grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo al prossimo tutorial ciao grazie a tutti